Per ribadire il concetto, pensa al fatto di investire come se consistesse in due diversi giochi. Ecco come li definisce Roger Martin, preside della Rotman School of Management della Toronto University. Uno è il mercato reale, dove competono le grandi aziende ad azionario diffuso, dove le aziende reali spendono soldi reali per fare vendere prodotti e servizi reali e, se giocano con abilità, guadagnano dei profitti e pagano dei dividendi. Questo gioco richiede una strategia, una determinazione e una capacità di innovazione e di lungimiranza. C'è poi un secondo gioco, vagamente collegato al primo, quello del mercato delle aspettative. Qui i prezzi non sono stabiliti da fattori reali come i margini o i profitti sulle vendite. A breve termine, i prezzi dei titoli azionari aumentano solo quando aumentano le aspettative degli investitori, non necessariamente quando aumentano le vendite, i margini o i profitti. Il mercato delle aspettative va di pari passo con le speculazioni. Il mercato reale va di pari passo con gli investimenti. Il mercato azionario, quindi, è una colossale distrazione rispetto al vero business degli investimenti. Troppo spesso, il mercato induce gli investitori a focalizzarsi sulle aspettative passeggere e volatili a breve termine, anziché su ciò che veramente conta, ossia il graduale accumulo di rendimenti ottenuti dalle aziende.